Se posso dire, se mi fai dire... No, no, le voglio dire... Si smonteranno queste coalizioni truffa, perché ha perfettamente ragione Buccini. Vale per la destra, ma vale anche per la coalizione centrista attorno al PD. Adesso pensi alla Bonino e a Minniti, che hanno posizioni opposte e dovrebbero eleggere assieme i candidati nell'uninominale, dopodiché sono programmi totalmente differenti. Con questo sistema elettorale truffa, di fatto, chi vota la Bonino porta i voti a Renzi, perché la Bonino non raggiungerà il 3%, quei voti se li prenderà il PD. Per cui uno vota, in teoria, per un programma diverso... Ma in questo criterio Renzi dice che chi vota Boldrini vota Salvini. Ma no, ma il sistema elettorale, al proporzionale, se non ci fossero i nostri voti, poi vedremo, sarà il 7, l'8, il 10, quella gente non voterebbe... Sì, vedremo, vedremo quanto prenderà il PD ed esposito nel suo collegio. Io faccio gli auguri a tutti, naturalmente, compreso... Mazza, questi auguri! ...per dare il numero un po' di... ...auguri sinceri, proprio! Faccio gli auguri a tutti! Aguri sinceri! Però quei voti... Però esposito è di origine campana, c'è il cornetto sotto, non si può inquadrare, ma c'è il cornetto in mano, esposito! Vedremo, riconteremo i voti, riconteremo il 4 marzo. Quel che è certo è che chi vota a noi, quei voti non andranno a destra. Chi vota PD e 5 Stelle rischia di trovarsi di quei voti o con Forza Italia...